Dal nostro progetto SoMachineBasic in online apriamo una tabella di animazione, andiamo a spuntare le variabili che vogliamo visualizzare nel nostro trace, in questo caso abbiamo scelto due valori analogici e un valore binario, dopodiché impostiamo la base tempo del nostro trace, si parte da una base minima di un secondo, 5 secondi, 10 secondi, 20 secondi, dopodiché apriamo la finestra di trace. Potete notare che vengono aperte due finestre di trace, uno per i valori analogici, l'altro per i valori binari. Potiamo scegliere di monitorare il tempo trascorso del nostro trace o di regolare in base all'ora del controllo. Anche la scala possiamo scegliere un massimo o un minimo o come in questo caso spuntare e scegliere la scala automaticamente i valori. I valori verranno visualizzati con una linea rossa e una linea blu e una linea rossa per quanto riguarda il valore binario. Dopodiché avviamo il nostro trace. Come potete vedere sta iniziando a visualizzare i valori correnti. In questo caso ho scelto di raggiungere un set point, questo visualizzato in blu, con un'uscita analogica che dovrà raggiungere in base al valore del bit binario. Vado a modificare il bit binario, che ovviamente scende, e vedete in automatico il valore dell'uscita analogica che cerca di raggiungere il nostro set point. In questo caso vedete che ha raggiunto il nostro set point. Io arresto il trace per l'esempio per dirvi che si può, tranquillamente puoi, esportare tutto il tracciato in un file .csv e possiamo monitorare continuamente fino a 12 ore di trace. Continuiamo con il trace. Grazie. Grazie.